Un'unica capeggiata da me che ha portato ovviamente alla elezione con oltre il 85% degli aventi diritto senza nessun voto contrario. È chiaro che questa iniziativa è un'iniziativa che prende corpo da quello che sta accadendo, dalle nomine commissariali senza nessun senso che si stanno diversificando in queste ore, in questi ultimi torni in Puglia, nella provincia di Lecce e a Lecce Città. Oggi abbiamo una riunione con i deputati e con i parlamentari della Puglia, con l'onorevole Fitto, con il nostro candidato Presidente Schittulli qui a Bari, vedremo le conseguenze di quello che sta accadendo nel panorama generale e vedremo cosa succederà nelle prossime ore.